Eccoci nuovamente a parlare degli spoiler del nuovo capitolo di One Piece. Vi ringraziamo subito per tutte le iscrizioni degli ultimi giorni, grazie mille ragazzi, siamo davvero molto felici per aver raggiunto i 70.000 iscritti. Grazie ragazzi per il continuo supporto. Il capitolo 1087 a tratti fa gasare, a tratti preoccupa. Uno dei personaggi storici della serie potrebbe uscire di scena. Stiamo parlando di Garp, del nonno di Rufy. Ma cosa ci dicono gli aggiornamenti spoiler al riguardo? Parliamone in questo video. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato agli spoiler del capitolo 1087 di One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Come abbiamo già scoperto il capitolo 1087 sarà interamente dedicato a Garp e ai pirati di Barba Nera. I fatti del capitolo quindi si svolgeranno ad Hachinosu, l'isola dei pirati, sotto il controllo dell'imperatore pirata Marshall D. Teach. Nel capitolo 1081 avevamo visto Garp affrontare Kuzan. Uno scontro senza esclusione di colpi, con un Garp potentissimo. Anche se a detta sua gli anni hanno indebolito l'efficacia dei suoi pugni. Questo capitolo riprende da dove c'eravamo lasciati. Rispetto a ieri, l'utente Tolko P. ci dà delle nuove informazioni sul capitolo. Garp dimostra di essere in vantaggio in combattimento contro gli altri pirati di Barba Nera presenti a Hachinosu. Vedremo Shiryu attaccare e pugnalare furtivamente Garp. Quest'ultimo lo stenderà però con un solo pugno, facendolo cadere a terra. Nonostante ciò, a fine capitolo vedremo Garp crollare, ma non ci verrà mostrato sconfitto. Ovviamente avremo una panoramica completa solo quando leggeremo il capitolo e vedremo come andranno davvero i fatti. La situazione però preoccupa. Da una parte vediamo questo personaggio, Garp, fare il culo, diciamolo pure, ai pirati di Barba Nera. E tenere testa ad un personaggio livello ammiraglio quale Aokiji. E dall'altra vediamo questo stesso personaggio a fine capitolo crollare a terra. Ricordiamo che Garp è uno dei più forti della vecchia generazione. Lui si è alleato con Roger per fermare i pirati ROX. Più volte ha rifiutato il ruolo di ammiraglio per non sottostare direttamente agli ordini dei draghi celesti. Quindi per una sua scelta personale. Inoltre con questo capitolo viene approfondito un pochino in più il passato di Aokiji. Mostrandoci l'addestramento da Marin sotto Garp. E adesso la storia cosa ci propone? Allievo e maestro che si sfidano. In un combattimento senza esclusione di colpi. Il confronto finale. Abbiamo Jiraiya contro Pain. Ci dispiace questa intromissione nei fatti da parte di Shiryu. Bisogna capire se l'attacco è rivolto in modo furtivo direttamente a Garp. O se l'attacco magari è rivolto a Kobe. E Garp lo va a proteggere. Ovviamente in ogni caso questo attacco così meschino e subdolo di Shiryu. Incarna ancora una volta perfettamente la natura di questo personaggio. E allo stesso tempo incarna anche la natura dei membri della ciurma di Teach. Quello che ci chiediamo adesso è, e giriamo la domanda a voi, davvero Garp uscirà di scena? È il sacrificio necessario per sbloccare la narrazione degli eventi? Per spingere Rufy verso una battaglia contro Barba Nera? Prima Ace, ora Garp. Possibile che l'autore ancora una volta per causare una crescita in Rufy decida di sacrificare un suo caro? In una sua dichiarazione Ichiro Oda ha confermato che la perdita del fratello Ace era un fattore necessario per determinare la crescita interiore del personaggio. Adesso la storia si ripete con Garp. Così facendo, questa attacca da Shinosu a cosa porterà? Qualcosa non torna. Vedremo intervenire forse qualcun altro in questo scontro? Perché in un modo o nell'altro Kobe dovrà svincolarsi da questa situazione. Non può tornare Teach e trovarli lì e rimetterli in prigione. Vediamo Garp dire in questo capitolo Kobe non farti prendere dal panico perché la giustizia prevarrà. Quindi ci aspettiamo un ulteriore sviluppo degli eventi. Anche se è possibile che Garp intendesse con la giustizia prevarrà che alla fine di tutto, alla fine di tutti gli eventi, alla fine della storia di One Piece, comunque la giustizia prevarrà. Giustizia intesa proprio come giustizia, no giustizia intesa come Marine. Giustizia nel senso di giustizia che può essere anche un pirata, secondo noi, a far prevalere la giustizia. Ma secondo voi Garp rappresenta quel classico personaggio della vecchia generazione pronta a morire in combattimento dando tutto se stesso e scommettendo sulla nuova generazione? Un po' ci ricorda Mutenno contro il grande mago piccolo. Che poi è risuscitato. O come ha detto lui, Jiraya contro Pain. Anche per One Piece è arrivato quel momento? Di domande ve ne abbiamo fatte parecchie. Aspettiamo di leggere le vostre opinioni. Ma con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima ragazzi! Alla prossima! Alla prossima!